Il numero 88 è bandito. Piante dosi viate il numero sulle maglie dei calciatori. Il numero richiama alla doppia H e a ideologie antisemite. Si tratta di una prima tappa per estendere il procedimento a tutti gli sport. Per tutte le persone di buonsenso invece è l'ennesimo delirio politically correct. Faremo fare prima o poi la conta ai bambini saltando il numero 88, 86, 87, 89. Elimineremo prima o poi i numeri della smorfia napoletana? Come il 29, il pene, il padre delle creature, perché considerato transofobico? E meno male che per il centrodestra il mantra era che c'era chi vedeva il fascismo anche nei formati della pasta. Il punto è che siamo sempre alle solite. Che così come l'omofobia non la risolvi con le chua, nemmeno l'estremismo lo risolvi mettendo al bando un numero. Per questo e altri deliri del politically correct raggiungimi sul canale. E li demoliamo tutti. Da qualsiasi partito politico essi provengano.